Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del telegiornale dedicata all'approvazione da parte del Governo regionale della delibera sulla perimetrazione dell'area di crisi industriale complessa. L'atto, dopo un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico emanato oltre un anno fa, comprende i comuni appartenenti ai sistemi locali del lavoro Gela, Mazzarino, Vittoria, Caltagirone, Riesi, Caltanissette e Piazza Armerina. In Vitale adesso potrà avviare tutte quelle procedure che permetteranno di avere dei vantaggi non indifferenti. Vediamo. Benefici economici ed agevolazioni fiscali per una realtà, quella gelese, messa in ginocchio da una crisi economica senza precedenti, una boccata d'ossigeno per polmoni affaticati. Lo dice il sindaco di Gela, domenico Mersinese, subito dopo aver appreso che la giunta regionale di Governo ha approvato la delibera sulla perimetrazione dell'area di crisi industriale complessa. L'atto, dopo un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico emanato oltre un anno addietro, comprende i comuni appartenenti ai sistemi locali del lavoro Gela, Mazzarino, Vittoria, Caltagirone, Riesi, Caltanissetta e Piazza Armerina. Adesso l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa in Vitalia potrà avviare tutte quelle procedure che permetteranno di avere dei vantaggi non indifferenti. Diamo atto al Governatore Rosario Crocetta, continua messinese, di aver mantenuto fede al suo impegno dopo le ultime sollecitazioni e auspichiamo che adesso si concretizzi il veloce utilizzo dei fondi di compensazione dell'Eni. Già martedì prossimo a Palazzo d'Orleans si darà un incontro al fine di individuare le prime opere da cantierare in tempi brevi. La città oggi non ha bisogno di discutere di priorità sulle opere da realizzare, ha rilanciato l'assessore comunale allo sviluppo economico Simone Siciliano. Non c'è più tempo per le concertazioni, adesso bisogna agire. Proporremo al tavolo regionale con Eni e Governo di perfezionare gli accordi per la riqualificazione del sistema portuale gelese puntando sul progetto di ripristino funzionale del porto rifugio e uno studio di pre-progettazione per il rilancio della portualità industriale e per il reimpiego delle acque non più in uso alla raffineria, tra cui quelle dell'invaso ragoleto e la messa in funzione dell'impianto di trattamento delle acque reflui depurate per usi rigui che si trova nell'area industriale. Portualità e agricoltura, infatti, ha concluso il vice sindaco, devono ricollocare nel nuovo contesto di sviluppo territoriale la città di Gela come riferimento centrale per risvegliare una nuova era occupazionale in grado di contenere l'esasperazione sociale delle fasce marginali. Dura presa di posizione da parte di Lucio Greco di un'altra gele in merito alla vicenda dell'aumento dell'Atari per Greco soltanto degli incoscienti possono pensare di aumentare di ben 40% la tassa sui rifiuti solo degli irresponsabili possono pensare di saccheggiare poveri cittadini gelesi già colpiti da una grave crisi economica ed occupazionale solo degli avventurieri senza regno possono continuare a scherzare sulla pelle dei gelesi con delle iniziative cervellotiche insensate e in qualche caso sospette. Greco si augura che consiglieri comunali di qualsiasi colore politico impediscano la realizzazione di una sparata così grossa. Diversamente si renderanno anche loro responsabili del definitivo disastro dell'economia della città e saranno chiamati prima o poi a darne conto ai cittadini. Se dopo le tante minacce di far piazza pulita della vecchia gestione, se dopo tanti problemi, se dopo tante parole grosse se dopo tante spiegazioni anche a colpi di diagrammi esibiti in tv il risultato è quello di vedere che a svolgere il servizio della raccolta rifiuti è la stessa ditta delle passate amministrazioni con le stesse carenze e con gli stessi disservizi, dice ancora Greco, ci vuole un po' di pudore e una bella faccia tosta a chiedere un aumento delle tariffe. Il movimento Un'altra Gela chiude la nota, non si limiterà certamente a guardare. Torna stasera, come ogni venerdì, augurà il rotocalco settimanale di Canale 10 ideato e condotto da Franco Gallo accenderà i suoi riflettori su un argomento tanto importante per le sorti economiche presenti e future di questa martoriata città quanto misterioso, un argomento che chi ha governato Gela negli ultimi 15-20 anni ha fatto attenzione a tenere ben nascosta gli occhi dell'opinione pubblica. Stiamo parlando dei fantomatici debiti fuori bilancio che costringeranno le nostre prossime generazioni a pagare un pegno economico finanziario pesantissimo con gravi ripercussioni di svariata natura. Ma chi li ha contratti e perché? Ma soprattutto a quanto ammonta veramente questa montagna di debiti scaricati sulle teste degli ignari cittadini gelesi. Se ne parlerà stasera da Gorà. Appuntamento alle 21 naturalmente su Canale 10. All'unanimità ieri sera il Consiglio Comunale di Gela ha detto sì al piano per il rilancio del centro storico. Il progetto è stato studiato dalle componenti della Commissione Sviluppo Economico preseduta da Antonio Torrenti e composta da Vincenzo Giudice, Anna Comandatore, Carmelo Orlando e Angela Di Modica. L'obiettivo assieme alle varie associazioni di categoria presenti sul territorio, tra cui Confcommercio, Proloco, Gerocentro, Confesorcenti, è quello di avviare una serie di interventi strutturali e non che trasformino il centro in una zona quotidiana di attività e iniziative commerciali a partire dall'apertura domenicale costante di tutti i negozi. È stata pure proposta l'attivazione di mercatini per il rilancio dei prodotti locali. Dovrebbero tenersi alla Villa Comunale Garibaldi, in Piazza Umberto I, Piazza Roma e Piazza Salandra. Altro punto del progetto è quello di agevolare fiscalmente tutte le nuove attività che si insederanno in centro, fino al punto da richiedere l'ampliamento della zona franca urbana proprio a quest'area. Spazio inoltre ad angoli artistici permanenti e a botteghe tradizionali. Dunque si punta al rilancio della salotto della città, che dovrà essere fruito a 360 gradi dai gelesi, ma anche dai turisti. La Proloco, durante lo suo intervento, si è soffermata proprio su questo aspetto. Gela, è stato detto, deve essere una tappa fondamentale per chi vuole trascorrere le vacanze. La città, infatti, dispone di bellezze archeologiche che non hanno uguali ed un mare straordinario. Bisogna soltanto valorizzarli. Di turisti in città se ne vedono pochi, in effetti. Le nostre telecamere ne hanno immortalato due. Si tratta di una coppia di sposini. Lui è un ristoratore, lei un estetista. Arrivano dalla Russia. Grazie ad un amico gelese, i due ragazzi si trovano a Gela da qualche giorno. E della città, baciata dal mare, ne sono rimasti affascinati. Siamo venuti qui per visitare Gela, perché è una città bellissima, che si trova in Sicilia, dove c'è il mare bellissimo, dove si mangia molto bene. Quindi vogliamo conoscere cultura meglio. Ma per quale motivo proprio Gela? Perché i nostri amici sono stati già a Gela e sono rimasti molto contenti. Hanno detto che è una città bellissima. Cosa avete già visto di Gela e cosa vi è piaciuto? Mi piace tutto. E' anche un molto bello hotel, dove siamo rimasti, che è molto particolare. Mi è piaciuto il mare, persone molto amichevole. Noi siamo venuti qui e subito abbiamo sentito caldo, quindi c'è la differenza. Quindi noi stiamo pensando di passare tutti questi giorni al mare. Ma avete saputo che Gela è una città greca che risale 2700 anni fa e che possiede tanti reperti? Sì, ma sono venuti per vedere meglio questo paese. E cosa porterete di Gela in Russia un giorno? Sìr, pasto, umore bellissimo, dopo una vacanza a Gela e vogliono portare anche un po' di prodotti locali, prodotti tipici siciliani. Proseguono gli appuntamenti in occasione della festa della Madonna delle Grazie a Gela. Fino a giovedì 30 giugno ogni giorno nella Chiesa dei Cappuccini alle 7.30, 8.30 e 19, celebrazione eucaristica. E alle 18, Santo Rosario, coroncina alla Madonna. Domenica 26 giugno alle 21, veglia Mariana nel piazzale del convento. E martedì 28 giugno alle 21, celebrazione penitenziale, giubilare. E in pagamento agli sportelli della banca Unicredit di Gela, il contributo per il canone di locazione relativo al 2015 lo ha reso noto l'assessore comunale Servizi Sociali di Ciaabela. Le somme integrative attinte dal Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sono rapportate all'importo del contratto di affitto regolarmente registrato e ha la sua incidenza rispetto al reddito del nucleo familiare. Adesso parliamo della festa per i 242 anni della Fondazione della Guardia di Finanza. Vediamo. La Guardia di Finanza a servizio del territorio e della popolazione per conquistare spazi di legalità e garantire le condizioni che favoriscano lo sviluppo economico in collaborazione con le altre forze di polizia. Con queste parole il colonnello Luigi Macchia, comandante della Guardia di Finanza di Caltanissette, ha voluto sottolineare in occasione della cerimonia per il 242esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza l'importante e delicato ruolo che quotidianamente le fiamme gialle svolgono. Proprio questi sono i messaggi che ho voluto indirizzare alla platea quest'oggi, cioè che la Guardia di Finanza è la prima battuta a servizio della cittadinanza e del territorio, a servizio di quelle forze sane che insistono sul territorio e che vogliono garantire il progresso tanto economico quanto sociale. Ecco, noi siamo qui per supportare il loro lavoro. Non mi stancherò mai di ringraziare i miei uomini perché affrontano difficoltà notevoli nel svolgimento del loro servizio, che vanno dal sacrificio dei propri affetti familiari a quelli economici e quindi riuscendo a perseguire, nonostante ciò, dei ottimi risultati, ripeto, risultati che vanno nell'indirizzo di un miglioramento delle condizioni sociali ed economiche della collettività. Una cerimonia sobria alla presenza delle autorità civili e militari durante la quale sono stati consegnati encomie e lodi ai militari che si sono contraddistinti nell'espletamento dei loro servizi, tra cui l'encomio solenne consegnato al tenente colonnello Nello Pisani, comandante del nucleo di polizia tributaria per l'operazione per la Nera. Abbiamo svolto per un lungo periodo di tempo, quindi coordinati dalla DDA di Caltanissetta, un'importante indagine che ha riguardato il mondo degli appalti e quindi i collegamenti tra alcuni imprenditori edili di Caltanissetta e di San Cataldo e alcuni funzionari e dirigenti sia del comune di Caltanissetta che di San Cataldo. Una delle tante verifiche fiscali che vengono condotte dalla compagnia della Guardia di Finanza di Gela, che ha portato a un cospico bottino, se possiamo usare questo termine. Si tratta di una società che fittiziamente commerciava in prodotti casalinghi, saponi per la casa e che in realtà utilizzava il meccanismo delle fro di carosello per poter importare merce e poi evadere l'IVA nei vari passaggi. Un gravissimo lutto ha colpito lo sport gelese. Si è spento all'età di 73 anni Roberto Romagnoli, figura carismatica del tennis locale. Originario di San Benedetto del Tronto, era arrivato a Gela con l'insediamento dell'Anic. Portano la sua firma le numerose iniziative sportive che si sono svolte in città negli ultimi anni. E un altro lutto ha colpito la società Eurotec di Angelo Tuccio per cause naturali e morte Emanuele Granvillano, capo officina dell'azienda. La società Gela Calcio vuole far sentire tutta la propria vicinanza alla famiglia, alla moglie e ai figli associandosi al loro dolore. Corso di aggiornamento per gli operatori sanitari sulle metodologie relative alla prevenzione si è svolto oggi all'Istituto Suor Teresa Valse di Macchitella. C'eravamo anche noi. Suorenza, oggi l'Istituto Suor Teresa Valse di Macchitella ospita un importante seminario e voi, in virtù dell'accoglienza, date vita anche a questi eventi. Sì, sì, la nostra casa, mi piace dirlo e ripeterlo, è sempre aperta e là dove è possibile diamo ospitalità e facciamo sentire a casa, perché questo è e vuole essere il nostro stile. Poi con questo gruppo noi partecipiamo perché sono stati realizzati i progetti sia alla scuola primaria che alla scuola dell'infanzia e tutto questo naturalmente ha dato qualità anche al nostro POFA, alla nostra offerta formativa e di questo ringraziamo tutti coloro che naturalmente ci danno la possibilità di interagire e di collaborare. I punti di forza di questo incontro di oggi consistono nel provare ad orientare l'attività dei nostri operatori verso livelli metodologici più avanzati. Il Ministero della Salute suggerisce alla regione siciliana, già da qualche anno, di adottare una modalità di progettazione delle attività di prevenzione che sia diversa e che sia metodologicamente più avanzata. Questo modello di progettazione si chiama PCM, Project Cycle Management, ed è stato già utilizzato in molte regioni d'Italia, in particolare in Veneto. La regione Sicilia sta partendo con un po' di ritardo, però adesso questa progettazione diventa di fatto obbligatoria per tutti i nostri operatori sanitari. In questa scuola noi abbiamo fatto due progetti che riguardano la sicurezza negli ambienti di vita, uno nella scuola primaria, chiamato Progetto Giochi Sicuri, e l'altro nella scuola dell'infanzia, chiamato Sicurezza Domestica. Praticamente è importante che anche questi progetti vengano adeguati secondo, diciamo, questo nuovo modo di interpretare quello che è il modo di operare in sanità pubblica. Sono state pubblicate al Comune di Gela le graduatorie con i nomi dei soggetti ammessi e degli esclusi all'ottenimento del bonus socio-sanitario e dell'assegno civico, lo ha reso noto l'assessore servizi sociali, Licia Abela. L'elenco è consultabile all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di Gela o negli uffici del segretariato sociale. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. L'insegna dello slogan Anche tu puoi salvare una vita, l'organizzazione di volontariato Giube d'Italia di Gela, coordinata da Orazio Coccomini, propone per domani con il supporto del CESVOP una giornata di sensibilizzazione per informare e formare i cittadini sui metodi di primo soccorso e BLS. Si tratta di un'iniziativa molto importante anche in considerazione dell'imminente stagione estiva in cui bambini e anziani, assieme a chi lavora sotto il sole, possono essere vittime di un colpo di calore che in certi casi può avere conseguenze gravi. Le attività sono gratuite e aperte a tutti, si svolgono nell'aula formazione della sede operativa di Via Falcone in Contrada Brucazzi a Gela dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. A conclusione della giornata ogni partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione. Gli interessati per informazioni e iscrizioni possono contattare gli uffici al numero 0933 914419 c'è un indirizzo di posta elettronica. Giubbe d'Italia Gela, chiocciola hotmail.com, pagina Facebook Giubbe d'Italia Gela, oppure ci si può presentare direttamente domani alle 8.30 presso la sede operativa. Partita di calcio oggi alle 19.30 al Vincenzo Presti di Gela nell'ambito dell'iniziativa Tu come me. L'evento patrocinato dal Comune vedrà in campo l'associazione antiracket Gaetano Giordano è una squadra composta da elementi scelti fra il centro di accoglienza dei minori richiedenti asilo politico e di via Parioli. L'iniziativa tende a favorire attraverso lo sport i doverosi processi di integrazione ormai ineludibili e altamente auspicabili per l'intera comunità. Adesso parliamo della 17esima edizione del trofeo Gela di Città di Gela di Surfcasting. È tutto pronto per la gara nazionale di pesca sportiva specialità Surfcasting. Appuntamento domani alle 19 in contrada a Zafaglione sullo litorale tra Marina di Acate e Gela. Si tratta della 17esima edizione, una delle manifestazioni più importanti del Sud Italia. Già hanno dato adesione a 200 atleti che provengono da tutta la Sicilia, Calabria e Puglia. Ovviamente questi atleti sono stati già dislocati nella giornata di oggi presso gli alberghi e le strutture che abbiamo nella nostra città dove rimarranno la giornata di oggi e quella di domani. Diversi atleti già avessi iscritti alla competizione? Noi abbiamo molti atleti che il prossimo settembre andranno a fare il campionato italiano a Latina. E porteranno avanti in alto il nome di Gela? Abbastanza, sì. La gara di domani si concluderà a mezzanotte, un'ora dopo è prevista la premiazione. Gli atleti saranno a disposizione del giudice di gara alle ore 15.30 presso il residence contatto a Gela dove avverranno tutte le operazioni preliminari, i sorteggi e poi si partirà per il campo gara che è quello stabilito e di contrada a Zafaglione. Teatro sotto le stelle all'antidoto di Gela, tutti gli spettacoli si terranno all'aperto. Si comincia stasera alle 21.30 con attenti a quei due della compagnia antidoto. La rassegna si concluderà a settembre. L'ingresso è di 5 euro a coppia, prevista anche l'esibizione di Giobbe Covatta. Vediamo. Comincia questa sera la rassegna del Teatro sotto le stelle. Ragazzi, in questo momento voi state lavorando, infatti dal vostro entusiasmo vediamo proprio emerge tutto l'impegno che viene profuso anche attraverso il montaggio ad esempio delle scenografie. Tu ci vedi così, ci vedi smontati perché abbiamo finito di montare però stasera poi recupereremo le forze. Non ci vogliamo appesantire con le stanchezze per dare il massimo questa sera. Ora passo la parola a Emanuele perché mi sono stancato. Emanuele, tu mi sembri il più vispo della situazione. Certo, sono troppo vispo. E che dire, stasera siamo qui. Stasera alle 21.30 iniziamo questa avventura. L'estate qui al Cineteatro Antidoto, 5 euro a coppia. La legge ce la fanno, ma non ce l'hanno fatta. Comunque siamo qui perché la gente ci vuole e noi vogliamo la gente. Perciò stasera si inizia con Attende a Quee Due, con Guglielmo Greco, Emanuele Giammusso e la Lore Artore. Il teatro però vi ricaricherà stasera e come per magia accadrà, quello che accade poi tutte le volte che salite sul palcoscenico. E cioè la magia di regalare un sorriso, che fa bene alla salute, lo diciamo sempre. Guai se non fosse così. E noi ce la mettiamo tutta, sinceramente io con tutti i ragazzi. Questa sera, ci vediamo questa sera. Così vi facciamo vedere le nostre energie, che tiriamo fuori tutte le nostre energie per passare una bella serata, sicuramente. Attende a Quee Due, come diceva Emanuele, è una commedia ricca di sorprese. Sorprese per noi. Prima perché ci permette di improvvisare parecchio, è un testo scritto proprio apposta per questo. E è una sorpresa anche per il pubblico, perché possono nascere situazioni comiche in qualsiasi momento, coinvolgendo alcune volte anche il pubblico. Dipende come ci viene in mente a noi, perché alla fine dipende sempre tutto da noi. Ricordiamo allora il primo appuntamento, a che ora insomma i cittadini potranno essere già qui, pronti ad inaugurare questa nuova stagione estiva 2016. Alle ore 21 e 30 inizio, cioè significa che i cittadini gelesi possono già venire dalle 8 e mezza in poi e prendere posto. 5 euro a coppia, come diceva Emanuele. Coppie single, coppie scoppiate, qualsiasi tipo di coppia. Anche cocaine potete avere una serenna vita coppia. Ricordiamo pure l'appuntamento del 30 luglio, questo è importante, con Giobbe Covat. Già la biglietteria è già aperta anche per Giobbe e la biglietteria è sempre aperta per noi. Tante belle cose, ci vediamo stasera. In bocca al lupo ragazzi. Credo. Incomprensibile Sicilia, si tratta del libro di Enzo Russo che sarà presentato oggi alle 19.30 all'Eschilo Lab in Piazza Salandra. Converserà con l'autore e l'avvocato Franco Gallo. L'iniziativa porta la firma della libreria Mondadori Gela, Comune e Teatro Eschilo. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui e per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Arrivederci. Grazie a tutti.